e torniamo a parlare di vaccinazioni e regolamenti strani questa volta è protagonista l'università unica millus guardiamo assieme il video realizzato dall'avvocato vecchio buonasera un breve video perché nonostante le migliaia di parole spese non solo da me ma da tante migliaia di persone così come le attività svolte altrettanto da tanti di noi per cercare di ricondurre alla ragionevolezza alla logica alla legge alla scienza quella vera questa nazione mi tocca ogni tanto continuare ad avere la tragica sensazione dell'eterno ritorno e che cioè il 2021 e il 2022 non ci abbiano ancora purtroppo lasciato questo mi succede da ultimo leggendo i decreti rettorali di un'università che si chiama unica millus che ha la facoltà di medicina e chirurgia anzi per essere precisi oggi il corso di laurea di medicina e chirurgia e in questi decreti riguardanti l'iscrizione o il trasferimento da altri atenei è possibile leggere in un articolo che si intitola vaccinazioni obbligatorie e che già prevede l'obbligo di vaccinazioni antitubercolari che a me risulta la legge non preveda per l'iscrizione ai corsi di laurea di medicina altrettanto ma solo per sanitari che agiscono e si muovono in certi contesti comunque oltre a questo prevede la seguente frase lo studente dichiara altresì il proprio impegno a sottoporsi ad ogni altra vaccinazione disponibile di volta in volta sancita da norme aventi valore di legge o ritenuta opportuna dall'università per la sicurezza dello studente stesso e di tutti coloro con i quali questi può venire in contatto in ragione delle attività accademiche cui occorre che partecipi non so che dire siamo ormai di fronte alla privatizzazione dell'obbligo vaccinale io segnalerò questa situazione ma è del tutto evidente che va contro legge anche per quanto riguarda profili di privacy che ormai è evidente non interessano a nessuno come quelli legati agli obblighi vaccinali che devono discendere dalla legge perciò speriamo che succeda qualcosa e vi ringrazio ed eccolo qui l'articolo 9 vaccinazioni obbligatorie lo studente vincitore all'atto dell'immatricolazione dichiara il proprio impegno a sottoporsi entro 30 giorni dall'immatricolazione stessa alla prova tubercolina eseguita secondo la tecnica di Manteau secondo quanto previsto dalle linee guida per il protocollo della malattia tubercolare bla 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 che regolamenta la vaccinazione antitubercolare alla vaccinazione contro l'epatite virale B ai sensi della legge bla 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 ed infine lo studente dichiara altresì il proprio impegno a sottoporsi ad ogni altra vaccinazione disponibile di volta in volta sancita da norme a 20 valori di legge sì se erano come i decreti e le leggi di Misto Giacchi andiamo bene o ritenuta opportuna dall'università per la sicurezza dello studente stesso e di tutti coloro con i quali questi può venire in contatto in ragione delle attività accademiche cui occorre che partecipi ma vi rendete conto vaccinazioni obbligatorie per poter studiare oh ma stiamo scherzando allora aveva ragione Mr. Burla quando diceva che la terribile malattia è stata una prova generale lì hanno messo le basi per poi arrivare a qualcosa so che l'avvocato ha scritto all'università e adesso aspettiamo la loro risposta se mai arriverà nel frattempo se qualche studente volesse contattarmi la mia mail è il salotto di mimar chiocciola team.it raccontatemi la vostra esperienza ditemi cosa ne pensate se ritenete giusto che ci siano delle vaccinazioni obbligatorie nella vostra università per poter studiare ma ci sta ma scherzè voi che idea vi siete fatti di tutto questo? fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti